Allora ragazzi Quindi Però devo sbagliare sempre Perché sto facendo la fine Se ho cominciato ora Dalla fine che si Oggi siamo solo La cattiva map Si come potete vedere Siamo arrivati qua C'erano le petite E c'erano queste Ve le ho fatto vedere perché Stavo registrandone Non mi ha fatto registrare Vabbè Perché ho troppe cose piene Non mi fa registrare tante cose Quindi Non mi ha già fatto sopita Rimane tutto Vabbè Non ti fa uccidere Dalle persone Allora Io direi di scavare Per trovare un po' di ferro Perché di ferro Noi non ce l'abbiamo Però sono un cretino Perché solo che Di qua non si conta Vende 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 Basta Ok ma che Ma che Ti fa mettere caldo No qua no Ci mettiamo di qua Voi non vedrete niente di sicuro Però io ci vedo un po' Vende DavA Vende DavA No aspetto Tanturni Tanturni No aspetto Asso Vende 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 For' So we might Vi ci possono dare da fare ok è caduta la foto ahahah che bello overpowered che sarebbe la la mela di noccio ahahah scompiato tutto piccone di ferro e già l'ho fatto ahahah fare del pane bene e questo non ce la giudicheremo mai lo sapete perchè 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 io non so cucinare del pane scherzo però quando cucinate il pane vedete che è così cucinato che vedete il conte è cucinato così tanto lui mi vedete buttarlo così proprio da ue te 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 io ho capito perchè tanto tu sei bussato oh un seme ho un seme ho un seme un seme che bello seme che bello seme che bello seme uno ha cagato non so chi non so ha cagato un mister egg eggman mister eggman ah boh è nato gattugi è nato è nato è nato è nato si lo devo fare guarda non ti voglio guardare fatto vabbè vabbè la mettiamola a cuocere a forno lento a due pezzi di legno perchè noi abbiamo quello la vecchia di trent'anni fa perchè se non abbiamo se abbiamo quello la buono no non sai come sopravvivere qua allora prima di cosa è fatto vabbè non so cosa ho ragazzi il mio obiettivo lo sai qual è raggiungere quella cosa assoluta perchè io sopra in realtà ci posso andare ma devo avere un sacco di un ottio di 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 stone di stone di stone di stone di stone le stone le stone la 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 quindi vi farò vedere un'immagine bella qua da qualche parte voglio vedere l'immagine di minecraft con la sua apparenza di minecraft c'è minecraft stampato di rossi che bello io so fare le patate la 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 mm ok ragazzi allora scusatevi ma dovevo fare una cosa e ho stoppato e ho stoppato perchè io per registrar comment friend minecraft e se più più veloce li eeeh va bene sorami possiamo andare ecco qua andiamo di qua a farsi a ecco qua voglio vedere proprio cosa c'è da sopra sono così curioso di vedere cosa c'è da sopra e in quel momento mi uccido ma comunque io butto cosa è se è la cazzo di carne quella è nato chi lo sa forse tu lo sai io non lo so allora vediamo se ce la so ancora c'è un po' di te no raga non lo posso fare allora scendo raga raga ok ragazzi allora ho preso la legna anche quindi abbiamo 32 legna io metterei qua con questa così facciamo meglio ne avendo 8 perché ragazzi sapete che se muoio perdo davvero poi mi lascio un po' qua questo è un po' la zappa non mi serve questo non mi serve questo non mi serve questo spingue non mi serve la pepita non mi serve e possiamo anche la lascia non mi serve per la prima volta per la prima volta però devo piantare questo io lo prenderò per la prima volta ok ok ho prenduto il punto dove faccio tutto tutto perchè io faccio così poi questo quale io ho capito il tuo cuore chi 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 l'epoca tempo pazzo marlowe of arts adoro di guanzo il vero no ok rosa l'eleve non solo perché ci abbiamo davvero poco di un'esercizio come si fa allora il pd se il video è piaciuto come descrizzi noi abbiamo preso tutto questo e ci siamo fatti dei piccoli e il lanciato l'arriamo nato un po' di più questo siamo andati da sopra però era un felice perchè neanche ci possiamo andare e la c'è anche un'altra un'altra cosa che vedo la ci sono una ma che è ma tutto pieno eh un caniglia c'è un caniglia vabbè quindi se vi ho preso i temi in commento di scuole e scuoleciate eee ci vediamo sono buttata